Ma perché tu vuoi un figlio con me? Ti rendi conto che con me è tutto più difficile? Presto, veloci, altrimenti i follicoli scoppieranno! Stengo poi a venire a figli, ma non so che io a femmina prendi, so quell'altra mamma. Ma voi avete capito cos'è l'amore? Ma che avete capito voi? Ma che avete capito? Io sì che l'ho capito, invece. Andrea è Nessia's ex-boyfriend. I'm her first girlfriend. No, ma io ci hai veramente una fine del mondo per avere qualche ore. Io ci hai veramente una spagna. E in soli come ci vanno un sacco di soldi, mamma, ci sono anche pure finiti. Noi saremo brave. Abbiamo già smesso di fumare. Sbetteremo anche di bere. Io voglio un figlio con te, voglio una famiglia con te perché sei tu. Ma dove stiamo andando? E fidati! Ci pensi che potrebbe essere uno di questi? Non sarebbe mica male, eh? Chissà come viene fuori. I capelli, la bocca, gli occhi. Il colore della pelle. Ci pensi che potrebbero essere uno di questi? Tutto bene.